Happy Mamma è la nuova app del sistema sanitario regionale che ti accompagna nel percorso nascita dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del tuo bambino. Facile da utilizzare e gratuita su Happy Mamma, trovi informazioni personalizzate sul percorso nascita, il tuo libretto di gravidanza e la mappa dei servizi a cui rivolgerti. Ricevi promemoria su esami e visite da effettuare, prenoti direttamente gli appuntamenti e molto altro ancora. Happy Mamma, il percorso nascita nelle tue mani. Grazie a tutti.